Ciao a tutti, oggi prepareremo la carbo pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono guanciale, tuorli, pecorino grattugiato, pepe, pesto di pistacchi, granella di pistacchi e pasta corta. Andiamo il via alla ricetta. Per prima cosa cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Mettere all'interno del boccale il guanciale ed azionare il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. mettere da parte e tenere in caldo. Mettere nel boccale i tuorli, il pecorino ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 4. Aggiungere il pesto di pistacchi, il pepe ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 4. Trasferire in una ciotola capiente aggiungendo qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta, amalgamare bene e servire. Carbo pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!